Dopo le polemiche e le critiche arrivate anche dall'ordine degli architetti, l'amministrazione Piccitto ha trovato l'accordo con la soprintendenza ai beni culturali sulla tanto discussa rotatoria di Piazza Libertà a Ragusa. Il progetto verrà modificato alla luce del vincolo che sarà imposto sull'intera piazza. Il diametro della rotatoria è stato ridotto da 14 metri a 9 metri, quindi l'attuale sarà ingrandita di 3 metri. Immutata la decisione di spostare la rotatoria in modo da portarle in asse con le altre arterie cittadine e nessuna modifica prevista per i marciapiedi, mentre saranno eliminate dal progetto le isolette spartitraffico. Alla rotatoria si aggiungerà una banchina sormontabile che permette alle autovetture di non impattare con la rotonda in caso di incidente, ma di salirci nella parte periferica. Il soprintendente Calogero Rizzuta ha espresso soddisfazione e ha spiegato come il vincolo monumentale che si sta andando a porre sulla piazza andrà ad annullare le aree di parcheggio e dovrebbe portare alla rimozione delle palme. Rizzuta ha sottolineato che il processo di programmazione e progettazione non si esaurirà nel breve termine, ma sarà oggetto di una concertazione con l'amministrazione ragusana. Anche il sindaco Federico Piccitto si è mostrato aperto al dialogo con la soprintendenza e ha minimizzato le polemiche nei giorni scorsi. Il primo cittadino, Grillino, ha specificato che attraverso il vincolo monumentale Piazza Libertà potrà essere aperta ad altri interventi di riqualificazione e che la città sarà coinvolta nel piano strategico e di mobilità urbana attraverso consultazioni online per discutere anche in maniera più ampia del futuro del centro storico.